Il paese dove è nato ti accoglie da lontano parlando di lui, di Papa Luciani, che il 4 settembre verrà beatificato. La sua memoria a Canale d'Agordo è presente ovunque, oggi più che mai, nel giorno dell'apertura ufficiale della Casa Natale, diventata sede museale. Io ho un carissimo ricordo perché quella sera della sua elezione ero in Piazza San Pietro, quindi io ritorno sempre a quell'emozione. Poi quello che si è creato con questa fumata che non si capiva che colore, se fosse bianca o nera, in realtà era grigia e questo ha creato forse un suspense, un'attesa che io ne è rimasta dentro. Papa Luciani fu prima vescovo di Vittorio Veneto, quindi patriarca di Venezia e a ricordarne la figura durante la cerimonia svoltasi nella chiesa del paese, sono le persone che oggi ne raccolgono la testimonianza. Vedendo la figura e la testimonianza di questo vescovo che effettivamente è diventato anche una figura convincente con la sua umiltà, con la sua dedizione e con il dono totale della sua vita, quindi una gioia e un incoraggiamento, uno stimolo a fare altrettanto. Essere qui oggi vuol dire anche per Venezia pagare un debito di riconoscenza nei confronti di quest'uomo che per otto anni è stata una guida nella nostra chiesa che è in Venezia e del quale credo che noi manteniamo quel ricordo che non è solo una memoria storica ma è anche gratitudine. La casa natale di Luciani è stata invece donata alla diocese di Vittorio Veneto dal cardinale Beniamino Stella, nativo di Pieve di Soligo, cui il canale ha conferito la cittadinanza onoraria. Si conclude una piccola però bella storia che è stata l'acquisizione della casa di Albino Luciani. Entrare in una casa dove lui è vissuto, dove è sempre bello perché si ricorda l'aspetto umano, familiare, genitori, quindi è la storia che ognuno di noi vive nel proprio percorso e che oggi noi vediamo in questo bel personaggio che la chiesa ci propone alla devozione e alla imitazione come futuro e beato.